Un morto, tre feriti e tre in prognosi riservata e il bilancio di tre incidenti stradali dello scorso fine settimana. Si scrive ancora una pagina nera sulle strade della nostra provincia. Studenti anche oggi tra i banchi per il temuto Quizzone, la terza e ultima prova scritta. Ora tocca agli esami orali con la novità dell'esposizione facoltativa in lingua straniera. Terza domenica consecutiva a Passo Marinaro in territorio di Ragusa per protestare contro l'abbandono del sito. Le consigliere Nicite e Migliore chiedono subito soluzioni. Ha chiuso i battenti il Festival delle relazioni dedicato al dialogo interreligioso. Il tema centrale è stata l'integrazione, una sfida difficile ma necessaria. Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Video Mediterraneo. In apertura di nostro giornale troviamo la cronaca come abbiamo sentito dai titoli. È stato un fine settimana nero sulle strade della provincia di Ragusa. Un bilancio grave che si è registrato in tre incidenti stradali con un decesso, tre feriti e tre in prognosi riservata. Tre sinistri stradali su tre arterie differenti hanno impegnato numerose pattuglie della polizia stradale e dei carabinieri. I militari dell'arma hanno eseguito l'operazione Weekend Sicuro in tutta la giurisdizione della compagnia di Modica. Tre persone sono state denunciate per guide stato dei Brezza, setacciate alle zone dove insistono i locali notturni. Per tutti i particolari sentiamo il servizio di Viviana Sammito. Una jeep sta zigzagando mentre prosegue in direzione Santa Croce. È arrivata una chiamata di un cittadino alla polizia stradale Ragusa intorno alla mezzanotte di sabato segnalando un imminente pericolo e sollecitando l'intervento di una pattuglia. La volante è intervenuta sull'arteria indicata, la SP60, la Ragusa, Santa Croce e Camerina è incontrata a Mendolilli, rinvenendo il corpo già senza vita di un giovane che con la sua jeep l'auto segnalata da un automobilista si era scontrato contro un muro di cinta di un'abitazione privata. Angelo Bellia, 35 anni, originario di Licata, residente a Ragusa, sposato, era già cadavere. La morte sarebbe sopraggiunta sul colpo. La polizia stradale sta continuando le indagini. Il PM di turno, Alessia Laplaca, non ha disposto l'autopsia e è firmato il nulla osta per la consegna della salma alla famiglia Licata per le seque. Qualche ora dopo, intorno alle 2.30, sulla strada provinciale 45 alla Modica Pozzallo sono intervenuti i carabinieri per un grave incidente stradale. Una Smart semischiacciata dalla parte anteriore, bloccata su un muro a secco e una Nissan ridotta ad una Smart. E' questo lo scenario che si è presentato ai militari, ai vigili del fuoco e al 118. Rottami in ogni dove tre feriti, per fortuna non gravi. Tutti trasferiti all'ospedale maggiore di Modica. Un minorenne guarirà in 10 giorni, mentre gli altri due hanno avuto una prognosi di un mese e 20 giorni. Le operazioni di soccorso sono durate parecchio perché si è reso necessario applicare il collare tra i feriti prima di trasferirli dall'abitacolo alla Barella. Rimangono invece in prognosi riservate il sindaco di Monterossualmo, Paolo Buscema, e il figlio di 21 anni, entrambi ricoverati all'ospedale di Caltagirone, mentre il figlio di 25 anni è stato trasferito a Caltanissetta, guarirà in un mese. La prognosi è riservata anche per una giovane vittoriese di 20 anni, ricoverata con un po' di trauma con emorragia interna nel reparto di rianimazione del Canizzaro di Catania. La Peugeot, condotta da Buscema, si è scontrata venerdì pomeriggio con una Fiat 600, condotta da un vittoriese di 19 anni. Quest'ultimo non è rimasto ferito gravemente. Le indagini sono della postrada. Contro le stragi del sabato sera, i carabinieri della compagnia di Modica hanno setacciato tutto il territorio della giuridizione. Il bilancio è di tre persone deferite in stato di libertà per guida in stato di abbrezza. Eseguite 23 perquisizioni, controllate 55 veicoli e identificate 108 persone. L'operazione Weekend Sicuro proseguirà anche nelle prossime settimane. Controlli sul territorio anche da parte dei carabinieri di Vittoria per un weekend in sicurezza. Denunciati due pregiudicati di 22 e 24 anni per furto in concorso. I due sono stati sorpresi nella quasi flagranza di reato vicino ad un'azienda agricola di contrada Pozzo Bollente a Vittoria a bordo di un furgone con una pompa agricola sommersa, risultata di proprietà di un vittoriese di 60 anni. La refurtiva già restituita ammonta a 5.000 euro. Ad Akate invece, nel corso di un controllo, è stato fermato un tunisino, risultato irregolare sul territorio nazionale in quanto con permesso di soggiorno scaduto. L'immigrato è stato espulso dall'Italia e rimpatriato. Sempre ad Akate, un pregiudicato di 27 anni è stato denunciato per infrazione al codice della strada. Il giovane circolava senza la patente di guida e con un'auto priva di targa e di copertura assicurativa. È in corso una perquisizione domiciliare nell'abitazione di un pregiudicato di Comiso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo. Il giovane è stato fermato perché è trovato in possesso di droga. Le indagini stanno ancora proseguendo perché si sta cercando altro quantitativo di stupefacente. I carabinieri di Comiso hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare emesso dal Tribunale per i minorenni di Catania nei confronti di un minorenne rumeno responsabile insieme ad altri componenti di una banda dedita a furti a Comiso di almeno sette furti ai danni di scuole, abitazioni ed esercizi commerciali. Lo scorso mese di gennaio i carabinieri avevano denunciato nove rumeni di cui quattro minori e avevano recuperato refurtiva per 15 mila euro. Il minore arrestato si trova adesso presso l'Istituto Penale Minorire di Catania. Cambiamo argomento, lasciamo da parte la cronaca. Si è svolta senza patemi anche la terza e ultima prova scritta degli esami di Stato, il cosiddetto quizzone che in provincia di Ragusa stamattina ha visto all'opera oltre 2.800 studenti. Ora tocca agli esami orali con la novità dell'esposizione facoltativa in lingua straniere. Vediamo. Si è svolta oggi la terza ed ultima prova scritta per gli studenti che stanno affrontando gli esami di maturità. Archiviata la prova di italiano, uguale per tutti, e la seconda prova, diversa da indirizzo a indirizzo, oggi è toccato al test sulle varie materie, non più di cinque, che in gergo viene definito quizzone. Una serie di domande a risposta singola o multipla con cui i maturandi dovevano dimostrare di aver acquisito le nozioni base delle materie scelte dalla commissione interna e studiate nel corso dell'ultimo anno scolastico. Pensavo molto peggio, avevo un sacco di paura stamattina, però sul momento non mi ricordavo niente, però mi sono messo con calma lì, ho risposto a tutte le cose che sapevo all'inizio e poi ho avuto nell'ultima ora, in un'ora ho risposto soltanto alle tre domande di chimica, mi sono messo lì con calma a pensare che cosa dovevo scrivere. È stata una prova come le altre secondo me, solo che l'unica differenza è stata che mentre questa era fatta anche dai professori interni, quindi comunque diciamo che si aspettavano di più di noi rispetto alle altre due prove e quindi per quanto mi riguarda ho trovato le domande abbastanza semplici, penso anche comunque i miei compagni e comunque penso che sia andata abbastanza bene. È andato bene questa terza prova, a conclusione del ciclo degli iscritti, ora aspettiamo soltanto gli orali e possiamo dire che abbiamo finito e possiamo andarcene a mare finalmente. E dunque gli iscritti sono terminati nei prossimi giorni, parte l'ultima prova per conseguire l'ambito diploma, quella orale. Quest'anno c'è il colloquio con la Commissione con una novità, ovvero la facoltà di esporre un argomento in una materia non linguistica, in inglese o in un'altra lingua straniera. Del resto, come si dice, la società del futuro sarà sempre più globale. E allora in bocca al lupo a tutti. Ieri per la terza domenica consecutiva le consigliere comunali Sonia Migliore e Emanuela Nicita insieme ad una nutrita rappresentanza del direttivo del laboratorio politico-culturale 2.0 hanno affiancato gli abitanti di Passo Marinaro e Branco Piccolo nella protesta con cui si chiede all'amministrazione comunale di Ragusa di fare alcuni interventi migliorativi nella frazione riverasca. Vediamo. Ancora nessuna risposta dall'amministrazione comunale di Ragusa e gli abitanti di Passo Marinaro e Branco Piccolo non demordono. Ieri per la terza domenica consecutiva hanno manifestato il loro disagio per l'assenza dei servizi e la mancata soluzione ai tanti problemi, strada dissestata, assenza di parcheggi, spiaggia sporca. Serve un parcheggio obbligatoriamente perché non è possibile andare sull'arenile a sostare con le macchine. Spero che a più presto l'assessore Zanotto che si è reso disponibile ad aprire il portone di Palazzo dell'Aquila ci dia questa possibilità e a discutere in tempi brevi perché ormai il tempo è al limite di come realizzare il parcheggio e di come fare quei servizi essenziali come i bagni, come il servizio idro, come le cose essenziali per poter portare con dignità le persone a mare, con civiltà. Le consigliere comunali Sonia Migliore e Manuela Nicita insieme ad una nutrita rappresentanza del direttivo del Laboratorio Politico-Culturale 2.0 ancora una volta hanno affiancato gli abitanti di Passo Marinaro e Branco Piccolo nella loro protesta e rinnovano l'appello alla Giunta. Ascoltate questa gente. Io vorrei che l'amministrazione comunale facesse una scelta. Se tiene all'ambiente, se tiene al turismo, se tiene all'economia e ai diritti dei cittadini deve chiamare queste persone, deve proporre loro delle soluzioni. Il Festival delle Relazioni, le onde e il mare, dedicato al dialogo interreligioso, si è concluso lasciando a Ragusa un profondo messaggio di speranza verso un tema, quello dell'integrazione, che come recitava uno degli slogan della manifestazione, è sfida difficile ma necessaria. Vediamo il servizio. Ha dato i suoi frutti lo sforzo compiuto dalla Fondazione San Giovanni Battista perché il Festival delle Relazioni, le onde e il mare ha coinvolto tutta l'area eblea, non soltanto la città di Ragusa, eppure in una fase storica in cui parlare di accoglienza, solidarietà, dialogo interreligioso è obiettivamente complesso e faticoso, il messaggio di speranza è passato. Integrare sfida difficile ma necessaria, recitava mercoledì scorso lo slogan del convegno alla Camera di Commercio, con tra le altre la preziosa testimonianza del Cardinale Francesco Montenegro, presidente di Caritas Italiana, a cui sono seguiti altri momenti di confronto e riflessione politica, teologica, sociale. Poi la mostra di Franco Cilì e Gian Piero Carta sul tema Le onde e il mare, i doni di altri artisti, il concerto di Giovanni Caccamo, vincitore di Sanremo Giovani e direttore artistico di questo festival, a cui ha dedicato una tappa del suo tour Qui per te. Sabato il Festival delle Relazioni poi ha ospitato la tradizionale Giornata del Rifugiato. Il Vescovo Paolo Urso ha fatto dono della Bibbia e del Corano agli ospiti dei progetti SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Può stupire, ha spiegato Monsignor Urso, che un Vescovo possa regalare il Corano non si tratta dell'adesione a un credo altrui, ma di un modo per invitare ognuno di noi ad essere coerente con la propria religione, qualunque essa sia. In conclusione, ci piace rivedere le immagini della Marcia per la Pace, organizzata dalla Scuola Vannantò e che lo scorso 30 di maggio colorò Ragusa, grazie a migliaia di persone di ogni età, etnia, credo, un momento davvero entusiasmante che si è contrapposto magnificamente ai rigurgiti razzisti e alle strumentalizzazioni politiche con cui purtroppo, in questi ultimi mesi in particolare, siamo costretti a confrontarci. L'epilogo dell'edizione 2015 del Festival delle Relazioni si avrà a settembre a Comiso. Si chiama anche oggi, non mi ha sparato nessuno, l'ultima fatica di Riccardo Arena, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, che lo scorso fine settimana ha presentato il volume a Vittoria. Con lui anche Lino Busà e Riccardo Santamaria. Racconta storie di mafia circondate da uno sfondo romanzato, dove due ragazzini crescono giocando sullo stesso campo a calcio, ma il loro destino sarà ben diverso. Si troveranno a combattere una guerra su fronti contrapposti. Uno diventerà un capitano dei carabinieri e l'altro, da figlio del boss prima e capo della mafia poi. L'ufficiale dei carabinieri dovrà abbandonare il suo ritiro per tornare in prima linea e seguire le indagini sull'evasione del pericoloso capo della mafia, a quale appunto è legato da antichi precedenti. Sullo sfondo un mondo che vive secondo il ritmo della notizia battuta dalle agenzie, dello scoop inseguito ad ogni costo, delle esternazioni, delle condivisioni dei titoli di giornale a effetto. E' questa la storia che caratterizza la seconda fatica di Riccardo Arena, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Anche oggi non mi ha sparato nessuno. presentata sabato sera presso il Chiostro delle Grazie a Vittoria. Volevo raccontare una storia romanzata di questi anni in Sicilia, della Sicilia che è sempre costretta al compromesso, al patto, all'accordo sotterraneo. E ho voluto mettere su un romanzo che parte da una storia, da un episodio di partenza abbastanza surreale ma poi racconta tutti i fatti verissimi. E' una serie di riflessioni che vengono offerte anche alla nostra categoria, quella dei giornalisti, invitandoli proprio a cercare di non cedere mai alla lusinga della notizia facile o della notizia che devono cercare gli altri e che noi dobbiamo soltanto scrivere e scrivere o ricamarci su. E poi ecco un invito viene fatto alle forze dell'Ordine a continuare a lavorare perché i misteri di un paese come il nostro vengano scoperti perché c'è sempre ancora molto da scoprire e da sapere. Con Arena sabato sera c'erano anche Lino Busà e Riccardo Santamaria in rappresentanza di SOS, impresa nazionale e regionale. E' un'opera che si può leggere in maniera diversa, sul piano prettamente letterario, è un romanzo, un romanzo intricante e intricato ma che ha molti rimandi sull'attualità, sulla lotta alla mafia, sul sistema della comunicazione, sul terrorismo islamico, quindi diciamo un romanzo che però ha incursioni nell'attualità con una chiave di lettura che ti porta a pensare, a riflettere e non dà mai niente per scontato dalla prima all'ultima pagina. Mercoledì Libro sarà presentato a Palermo alla presenza del PM Nino Di Matteo. Chef, cantine e produttori insieme per il riso siciliano. Questo in sintesi su riso siculo, il grande evento enogastronomico che si è svolto ieri a Modica, a casa Cio Mod, circa una ventina gli chef coinvolti che hanno offerto al pubblico le proprie preparazioni a base di riso in abbinamento ai vini di importazione di importanti aziende del sud-est. Vediamo. E' stata una grande festa dedicata al riso siciliano e ancora una volta ha riscosso un grande successo di pubblico. Per il terzo anno consecutivo, casa Cio Mod di Modica ha ospitato Sorriso Siculo, l'evento enogastronomico che ha visto coinvolti una ventina di chef, oltre che numerose aziende vitivinicole, pasticceri, pizzaioli e aziende che si occupano di food da tutta la Sicilia. Il pomeriggio di ieri è stato dedicato ai cooking show, mentre la serata è stata una vera e propria festa, durante la quale si è potuto assaggiare le originalissime preparazioni a base di riso. Noi siamo insieme da stamattina, abbiamo pranzato assieme, abbiamo discusso di quello che bisognava fare e poi durante il pomeriggio abbiamo fatto tutti i cooking show e adesso siamo qui a rendere omaggio al riso facendo assaggiare le preparazioni alle persone che sono venute. L'iniziativa ben si è sposata con il punto forte di casa Cio Mod, ossia l'ospitalità. Parlare di riso in Sicilia sembrava quasi una cosa assurda, oggi è la testimonianza di un grande produttore, grazie anche all'input del nostro chef Carmelo Floridia, di portare alla luce una coltivazione diversa. Puoi ospitarli a casa Cio Mod, dove Cio Mod prima di produrre liquori e cioccolato, vuole parlare di territorio e di ospitalità, avere qui 20 chef, 20 cantine, oltre dei 20 produttori che parlano di prodotti del territorio è forse la più grande scommessa vinta. Successo sabato sera per il saggio di fine anno dello studio danza Coreios di Caterina Abela che si è svolto al Teatro Garibaldi di Modica. Servizio. Grande successo sabato sera a Modica al Teatro Garibaldi per lo spettacolo di fine anno dello studio danza Coreios diretto da Caterina Abela. Per circa due ore e trenta il pubblico è rimasto piacevolmente incollato alle poltrone del teatro, estasiato dalle esibizioni delle allieve della scuola di danza, bellissime coreografie di classico contemporaneo e moderno delle insegnanti Caterina Abela e Marvi Fontanella. Quest'ultima da quest'anno oltre al ruolo di allieva ha assunto un grande professionalità quello di maestra. La scuola, la prima nata in provincia, opera nel territorio ragusano da trentatré anni con ben tre sedi. Modica, Ragusa e recentemente anche Ispica. Ha formato tantissimi ballerini e inserito anche a livello nazionale giovani talentuosi che hanno fatto della danza una professione. La scuola è stata affiliata alla prestigiosa Accademia di Roma Cladidense diretta dal ballerino Cladi e ha partecipato a spettacoli nei diversi teatri in tutta Italia. Ha preso parte a tantissimi concorsi vincendo primi premi e borse di studio per gli allievi più meritevoli. Organizza stage con artisti di nota fama. L'ultimo in ordine di tempo è il superamento di un'audizione per il progetto per i giovani in collaborazione con l'Athenas Ballet Center di Atene in Grecia che si svolgerà in dicembre 2015 dove i ragazzi avranno la possibilità di esibirsi in un prestigioso teatro di Atene con due spettacoli e a partecipare a dei seminari con i professionisti di questa Accademia. Si è svolto ieri al cartodromo Vincenza di Ispica la seconda prova del campionato nazionale di velocità ASI. Tanto pubblico anche grazie al tempo che ha risparmiato le due manche che ha potuto assistere a gare avvincenti nelle quattro categorie pit bike, scooter, ovale e motard. A vincere è stata anche l'organizzazione della Multimotors di Modica che in collaborazione con i titolari del circuito hanno pianificato nei minimi dettagli questa importante prova. Vediamo. È stata una splendida giornata di motori ieri al cartodromo Vincenza di Ispica in occasione della seconda prova del circuito nazionale di velocità ASI. La TAP, la seconda delle cinque prevista in tutta l'isola, è valida per la qualificazione alle finali nazionali cui accedono i primi tre piloti in classifica per ogni specialità. Già dalla mattina con la partenza delle prime manche abbiamo potuto assistere al lotte testa a testa nelle quattro categorie in pista. Il tutto sotto l'attenta regia della Multimotors Modica che ha curato nei minimi dettagli l'evento. Ad aprire le danze la pit bike, le piccole fuoristrada a quattro cilindri che hanno visto la vittoria di Gianni Asta su Tonino Di Giovanni e Massimo Carnemolla. Nella gara per gli smanettoni degli scooter ha vinto, dopo un testa a testa esaltante, Adriano Ceruto che ha messo in fila Giuseppe Francavilla e Giovanni Burgio. È stata quindi la volta delle ovale vere e proprie riproduzioni in scala della Superbike. Una gara esaltante con tanti colpi di scena che ha visto trionfare Andrea Di Martino della Multimotors Corse grazie ad una spettacolare rimonta, pur non esente da brividi, su Maurizio Altomare. Terzo Francesco Farinato. Altomare è fortissimo, lui dietro alle sue spalle ha una carriera molto lunga e quindi ho dovuto mettere veramente il 110% per poter stare davanti. E poi grazie a queste mini Superbike, le mini GP ovale che sono puro divertimento, ci trasmettono una guida di una vera Superbike. Infine ha chiuso la giornata e a Ispicese la prova di Motard. Vince nettamente il modicano Michelangelo Cicero, completo nel podio tutto ebleo, lo ciclitano Massimo Ficile e l'altro modicano Gabriele Aprile. Alla fine tra fiume di spumante miste a gocce di pioggia che per fortuna ha risparmiato la gara, il cartodromo di Ispica si è confermato ancora una volta centro all'avanguardia nel panorama motoristico siciliano. A Ispica dal 26 settembre del 2014 diamo spettacolo, non solo con le due ruote ma anche con le quattro ruote. Abbiamo concluso appena la settimana scorsa un trofeo che abbiamo voluto dedicare a un nostro carissimo amico venuto a mancare due anni fa, trofeo salvo giunta. Adesso questa tappa è delle due ruote, qui parliamo di trofeo nazionale. Ci fermiamo adesso per la pausa pubblicitaria. Ci vediamo adesso un servizio del nostro ufficio commerciale. E' inaugurato ieri pomeriggio la macelleria Mallia Ragusa. La macelleria opera nel settore da 30 anni, solo carne locale, vari tagli e vari tipi di carne e rinomata per i suoi preparati pronto cuoci ed un piccolo angolo dedicato ai formaggi. L'evento rientra nell'ambito dei festeggiamenti del trentesimo anniversario dalla nascita. Appuntamento importante che ha trasformato in gioia l'evento spiacevole avvenuto qualche tempo fa, in cui in un incidente il locale era stato danneggiato e necessitava un intervento di ristrutturazione. Dopo il 25 aprile che abbiamo avuto questo incidente abbiamo deciso di fare questa nuova apertura. Anche dopo 30 anni di attività abbiamo cambiato tutto il look. forniamo ristoranti, la clientela nostra che ci dà fiducia, abbiamo tutta carne locale, carne di qualità, facciamo pure pronti cuoci, vendiamo formaggi, abbiamo la carne di cavallo pure l'asino. Vi aspetto numerosi in via Carducci numero 135. In chiusura di giornale i nostri programmi per questa sera sul canale 11 alle 21, la replica di People dedicata ad Aristide, poi domani alle 21.30 sul canale 605 la replica di Penalty, alle 21.30 sul canale 694 la replica della Via del Tonno. È tutto per questo appuntamento con l'informazione, grazie per averci scelto, un buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti.